questa è la dolce e la famiglia la famiglia è questa, la prima era un peccato è che mi sei voluto siderare con un'idea che può essere che anche? un peccato come poti ascolti vivi come poti ascolti vivi si bella fino a la mia siico che non ti come poti ascolti vivi come poti ascolti vivi si bella si tommi si canli bambi 6 ... ... ... ... ... ... ... Wow, come andiamo? Come andiamo, come andiamo! Come andiamo... Si non mi piace, va no! Si non mi piace, va no! Si non mi piace, va no! Non ti non mi piace... No ti non mi piace... No, non mi piace... Ciao, papà... Voi, va bene! Voi, va bene, va bene! Sì una vera, BOOM! E se caggasse il mio cuore che non si cae! E andiamo sotto il sofà! E se caggasse il mio cuore! E se caggasse il mio cuore!